La quinta edizione del premio ospitalità italiana svoltosi a Dischia ha indicato tra le strutture turistiche vincitrici le 10 categorie l'hotel 3 stelle, le grotte di Genga, i particolari. Un albergo marchigiano nella top 10 dei migliori in Italia, si tratta dell'hotel le grotte di Genga, in signore del premio ospitalità italiana, quale migliore struttura turistica a 3 stelle. Questa è una giornata importante perché la valorizzazione della politica turistica delle marche passa sicuramente attraverso le risorse finanziarie, passa attraverso la politica di organizzazione del territorio ma soprattutto attraverso gli uomini, attraverso imprenditori capaci, appassionati che accettino la disponibilità del rischio e dell'investimento. Qui ci troviamo in presenza di un imprenditore che ha saputo fare questo, rilanciare le proprie attività, assumere il rischio di impresa in un territorio molto difficile, oggettivamente difficile e è riuscito questo imprenditore a vincere la propria sfida. Noi abbiamo voluto presentare questa figura di Luciano Bardella all'attenzione della comunità regionale perché il suo esempio sia seguito. La giornata di oggi è particolarmente significativa proprio per promuovere l'esempio di un imprenditore che rischia perché altri lo seguono, seguono la testimonianza che lui ha dato e quindi si realizzi quel progetto che abbiamo di trasformare l'economia delle marche in un'economia che ha un supporto dal turismo particolarmente forte e quindi raggiunga un equilibrio tra l'attività manifatturiera e quelle legate al territorio.